la tela per parlarvi di sfilati non partirò da penelope ma quasi infatti è bene conoscere la lavorazione della tela la tela è formata da fili verticali ordito sono i fili che corrono paralleli la cimosa e fili orizzontali trama il filo della trama intreccia il filo dell'ordito passandogli alternativamente sotto e sopra se in ordito in trama viene usato lo stesso filo e se in un centimetro quadrato ci sono lo stesso numero di fili si ottiene un tessuto regolare è molto importante saperlo perché un tessuto regolare si sfila su tutti i lati contando lo stesso numero di fili mentre su un tessuto irregolare si sfila misurando la sfilatura